Ciao bella gente, che rincoglionimento fide miciotti, una pisciata pazzesca se non sopportate il caldo è meglio che non vi mettete in campo perché quando comincia ad arrivare il caldo c'è da andare fuori di cotella pesante 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 perché poi con un gatto quindi non è che puoi aprire più di tanto non è che puoi aprire più di tanto le finestre di conseguenza è vero Mimì robinetta leggera, sempre lei, sempre lei guardate con le sue belle unghiette come mi ha pronunciato i bordi della mansarda ragazzi questo è fantastico, guardate qua addirittura ha staccato via il profilo laccato qua e ha fatto dei sulchi, penso che si vedano i sulchi è vero Micioni Mamagatti? tu dici io sono un topo devo fare queste cose giusto? mammao mamma 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 allora stavi STOP Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.